oggi parliamo di visit pass un'iniziativa in itinere in divenire ci facciamo spiegare tutto da thomas ronconi appunto che è il suo creatore quindi meglio di lui non c'è nessuno che conosce questa iniziativa intanto iniziamo a dire che si tratta di un portale ma un portale di turismo un portale di informazione un portale di informazione sportiva e non solo abbiamo creato un portale web che va incontro a due figure importanti che sono gli utenti e le attività commerciali e abbiamo deciso di legarlo a un settore che è quello dello sport quindi di persone che si spostano per seguire o praticare uno sport. Voi vi rivolgete quindi a un'utenza che può essere quella del tifoto allora vediamo di sintetizzare il tifoto con la sua famiglia intende seguire la squadra del cuore in un luogo però magari potrebbe anche decidere di fermarsi una giornata in più comunque ha bisogno di un ristorante ha bisogno di un albergo ha bisogno di magari di alcune attività perché la moglie vuole fare shopping. Noi abbiamo cercato proprio di creare questo servizio nel senso io vado a vedere una partita di calcio o una partita di un qualsiasi altro sport e voglio legare a questo evento sportivo anche magari uno due giorni insieme alla mia famiglia quindi abbiamo cercato di creare un sito internet dove si potessero trovare delle attività commerciali che vanno dal pernotamento ristorazione tempo libero shopping che offrissero sconti e promozioni legate proprio a questi eventi sportivi. Qui il tifoso andando su questo sito su visit pass può fare queste scelte programmarle e poi insomma capire qual è la scontistica e poi insomma richiederlo. Sì organizzare nei minimi dettagli la propria trasferta al proprio viaggio quindi scegliere dove dormire dove mangiare e allo stesso tempo riuscendo ad ottenere sconti e promozioni in queste attività commerciali. Per il nostro tifoso però tutto questo avrà un costo e delle modalità? Sì noi facciamo pagare una tessera digitale quindi la facciamo pagare 9 euro ed è acquistabile direttamente online e si visualizza direttamente nel proprio telefono quindi facendo visualizzare alle attività commerciali il nostro proprio pass noi riusciamo ad ottenere gli sconti e le promozioni che le stesse hanno deciso di applicare. Voi vi riferite anche invece alle attività commerciali che sono uno dei motori della vostra attività? Sì ovviamente abbiamo studiato i nostri competitor e abbiamo comunque parlato con le attività commerciali per capire cosa volevano e cosa non andava bene in quello che nei portali che stavano utilizzando ad oggi e quindi abbiamo cercato di creare un sistema che andasse incontro proprio a loro e attraverso il nostro sito loro hanno una sezione dedicata dove possono inserire tutti i dati della loro attività commerciale e nel giro di due giorni sono online. Vi riferite anche alle associazioni sportive sono molti i contatti che avete in corso io non le chiedo ovviamente di rivelarmi i nomi però parliamo di società di calcio non solo professionistiche di serie B soprattutto. Sì noi questo progetto iniziale che era prettamente legato al turismo lo abbiamo presentato a delle associazioni sportive dei club professionistici abbiamo visto che la nostra idea quindi di legarlo al movimento dello sport era un'idea vista di buon occhio dalle associazioni sportive e quindi abbiamo deciso di legarlo prettamente allo sport. Ovviamente anche con loro c'è un sistema per contattarci direttamente sul nostro sito e poi andiamo a discutere con ogni singola realtà i vantaggi e le esperienze che possono comunque offrire ai loro tifosi. Quindi insomma per concluso si può dire che Visit Pass è un buon gol per i tifosi che sono interessati a questa iniziativa? Beh sicuramente un servizio che potrebbe essere valido per tutti gli sportivi e tutti i tifosi.